Però non è neanche difficile, è un po' noioso, ma ci sono delle cose da ricordare, non è neanche difficile però. Nella nostra trattazione d'ora in poi noi assumeremo la presenza di ghiaccio, che comporta un ulteriore complicazione. E quindi già le cose che avevo definito prima, qui abbiamo il volume dell'aria, che qui ho chiamato air gas, il volume dell'acqua e il volume del suono, S W a G. Quindi le masse hanno gli stessi elementi. Quando io posso, parlo come qui, il volume del suo, poi descrivo un volume complessivo, come qui il simbolo ci sono sbagliati, mettete Vs qua, e Vc, e Ms, e Mg qua sotto. Non so, però, che è un volume. Quindi, la massa del suolo, che cos'è? È uguale alla massa dell'aria, più la massa dell'acqua, che c'è in un certo volume, più la massa del ghiaccio, che vi ho detto che avrei fascurato, ma intanto le dimensioni non ci siamo dentro, più la massa del suolo, cioè le particelle di suolo, la massa dell'aria, la massa dell'acqua. Tutta questa massa costituisce la massa che c'è all'interno di un volume. che noi, per esempio, di un volume alla scala di Darcy, che noi vediamo come una cosa, un tutt'uno. Sappiamo che è composta di cose differenti, ma noi lo descriviamo con proprietà globali, che sono uniche. Quindi, la massa dell'acqua, total water, è uguale a cosa, la massa del vapore che sta nell'aria, più la massa dell'acqua, più la massa del ghiaccio. In generale, la massa del vapore si trascura. Però, in alcuni processi, non è che sia proprio così trascurabile. che se voi pensate, per esempio, all'evaporazione, l'evaporazione che noi misuriamo, una massa di acqua che se ne va, è piccola, magari, in termini relativi, però, se poi la fungiamo nel tempo, diventa importante, ed è il 60%, magari, in altri casi, del bilancio idrologico. Lo stesso si applica ai volumi. Adesso i pedici, quello che mi importa, a parte i pedici, a cui nome, magari, al corso delle slide, variano anche, dovete ricordare questo che questo significa, cioè, massa dell'acqua, massa delle soil particles, massa del ghiaccio, questi sono gli elementi più importanti, massa del vapore, volume del ghiaccio, volume del vapore, volume... Vedete, da qui ho già eliminato la sostanza organica, perché noi ingegneri abbiamo una tradizione insistentemente contraria, contro tutto ciò che è vitale, nonostante noi siano fatti di carne, di carbonio, di cose, di cose vitali. Quindi questa cosa, prima o poi, deve rientrare alla qualsiasi parte. La densità, quando parliamo di densità del materiale, possiamo parlare della densità del materiale, per esempio delle particelle, è la densità delle particelle, che cos'è? La massa delle particelle diviso il volume delle particelle. Se invece parliamo di massa del suolo, parliamo della massa del suolo diviso il volume del suolo, ma sia nella massa che nel volume del suolo, abbiamo dentro aria, acqua, ghiaccio, e tutto quello che c'è. Quindi questa qua sotto si chiama densità parente del suolo, in italiano, mentre in inglese si chiama bio-density, che vuol dire la densità di tutto quanto. Cioè, evidentemente, la massa, la parte più pesante del suolo, più densa del suolo, in questo caso, è la parte di minerale, che normalmente ha un peso specifico a torno di 2,5. E la densità parente del suolo, quindi è inferiore a questo, perché c'è dentro i luoghi, e di questo dobbiamo tenere conto. Un'altra semplificazione che si fa quando trattiamo l'acqua nei suoli è quella di definire questa quantità che si chiama contenuto volumetrico dimensionale dell'acqua. Non siamo contenti, cioè sarebbe tutto più semplice, forse da un certo punto di vista, se noi ci limitassero, se la storia fosse fatta in modo che noi, in questo momento, parlassimo di massa e volume dell'acqua. In realtà, nel corso della storia, nel corso delle equazioni che noi andiamo a scrivere, e tutto è scritto nella forma di variabili diverse, in particolare il contenuto volumetrico di acqua, in cui prendo tutto il volume del suolo e considero, in particolare qui ho chiamato Keta-Cin, per dire Condensed Water, l'acqua liquida più l'acqua solida, il volume del ghiaccio più il volume dell'acqua. Questo è il rapporto tra volume e volume, la massa si misura in chilogrammi, il volume in metri cubi, e il contenuto d'acqua dimensionale è un volume su volume, quindi adimensionale. Quello che useremo noi sarebbe naturalmente questo, Teta-W, il volume adimensionale dell'acqua, che non è dato, quindi, in metri cubi, ma è dato in un termine adimensionale, la frazione di acqua che c'è all'interno di un volume. Allora, in questo modo, possiamo definire la frazione di ghiaccio che non cambia nulla. La frazione del volume, che non è acqua, non è ghiaccio, ma è, se vogliamo, e non è, o meglio, l'intrazione del volume, che potrebbe essere acqua, potrebbe essere ghiaccio, o potrebbe essere aria, si chiama porosità. I famosi vuoti, di cui ho parlato finora, normalmente questi vuoti sono riempiti da qualcosa, questo qualcosa è aria, acqua o ghiaccio. Ci avrebbe, di nuovo, aggiunto la parte biologica, qualora questa sia importante. E questa si chiama porosità del suolo. In qualche caso, se noi avessimo a che fare con il ghiaccio, dovremmo sottrarre il contenuto volumetrico del ghiaccio. La porosità è tutto, perché quando il suolo si ghiaccia, noi possiamo pensare che i poli si stringano, rimangano dei poli più piccoli, e la parte esterna dei poli si è ricoperta di ghiaccio. Come se questa si ghiacciasse, un'interpretazione che non è esattamente corrispondente alla realtà. E comunque, quindi la porosità, potremmo voler descrivere, una porosità efficace. Se voi ragionate sulle quantità, potete vedere che il contenuto volumetrico di acqua può variare fra 0, acqua, e la porosità. Talvolta la porosità, invece di chiamarla P con S, la chiamo teta con S. perché ogni tanto, in ciascuno di noi, in ciascuno di noi, nella voglia di dire, adesso mi fermo, uniformo tutta la notazione di tutte le cose che cambiano, e uso sempre quella. Poi arriva un tuo allievo, che mi dice, ma, avrebbe più comodo chiamarla T con S, quella T con S, perché rimane la stessa variabile, quindi qualche volta, poi io, poi le equazioni si mescolano, e scrivo da un teta con S, e in letteratura, normalmente, teta compare teta con S o F con S, in seconda, o F come parola. Sto usando delle lettere che sono usuali in letteratura, ma naturalmente noi le possiamo chiamare secondo le altre lettere, perché ci associamo la semantica giusta. Come se non bastasse, spesso in letteratura si trova definita un'altra quantità, che è la saturazione relativa. In principio, la saturazione relativa sarebbe il contenuto d'acqua adimensionale, quindi una roba adimensionale, diviso la porosità. Quindi, mentre il teta varia fra 0 e la porosità, la saturazione relativa varia fra 0 e 1. in realtà, poi andando a studiare i suoli, quello che si vede è che rimane sempre dell'acqua adsorbita sui suoli, o almeno su alcuni suoli. Quindi, si è andato definendo una quantità, teta con R, che è definita qui, che si chiama contenuto volumetro di acqua residua. Cioè, se noi prendiamo un suolo, lo riempiamo di acqua, poi lo facciamo drenare, poi lo lasciamo evaporare così in maniera naturale, dentro ci rimane sempre un po' di acqua, per dire al fuori l'acquale, dobbiamo mettere il pezzo di suolo in un forno, farlo scaldarlo tipo a 300 gradi, portarlo quasi alla fusione, perché quest'acqua si de-assorba dalla superficie. Questo si chiama teta residuo. La mia è un'interpretazione fisica del teta residuo. Dopo, di fatto, questo diventa un parametro all'interno di equazioni che noi andremo a vedere e ha un po' di questo significato, però, che il concetto di suolo lo andiamo a definire la circulazione effettiva dei suoli, che è il contenuto di acqua meno il teta residuo, che è quello che comunque non entra mai in circolo, perché non è mai attaccato al suolo. Diviso da porosità efficace, meno il teta residuo. e con questo più o meno abbiamo tutte le definizioni che abbiamo fatto.